Le mani sono esattamente come le persone All'apparenza enormi sembra possa entrarci il mondo Ma in fondo sono piccole ed adatte a contenere poco Sicuramente meno di ciò che si si aspetti Le valigie sono ordinate prima del viaggio Ogni oggetto è proprio apposto, calcolato a millimetro Ogni abito è ben piegato ed ordinato E il caos è ritorno Le valigie non sono più ordinate I vestiti sono spiegazzati Gli oggetti settati alla infusa Si si dimentica sempre qualcosa Un piccolo pezzo al ritorno Le persone dimenticano sempre qualcosa Un piccolo pezzo al ritorno Le valigie sono esattamente come le persone All'apparenza enormi Sembra possa entrarci il mondo Ma in fondo sono piccole ed adatte a contenere poco Sicuramente meno di ciò che ci si aspetti Le valigie sono ordinate prima del viaggio Ogni oggetto ha il proprio posto, calcolato a millimetro Ogni abito è ben piegato ed ordinato E il caos è al ritorno Le valigie non sono più ordinate I vestiti sono spiegazzati Gli oggetti settati alla rinfusa Ci si dimentica sempre qualcosa Un piccolo pezzo al ritorno Le persone dimenticano sempre qualcosa Un piccolo pezzo al ritorno Le persone dimentico Riccaki sempre Un piccolo pezzo al ritorno Un piccolo pezzo al ritorno Un piccolo pezzo al ritorno Un piccolo pezzato